Buongiorno, sono Benito Castelluccio, oggi dalla mostra di Oltremare e dal ristorante Cuvida di Ponte Cagnano porto una pizza realizzata con prodotti di amonita e l'impasto utilizzato con farine braga. Il tipo di impasto è un impasto a doppia levitazione con farina tipo 1 e farina tipo 0. Il topping abbiamo utilizzato il datterino giallo, capicollo blu di bufala e mozzarella, logicamente. L'idratazione siamo su un 70%, una levitazione 24 ore, prima massa, staglio e temperatura controllata per le seguenti ore.